La gente nelle case è spaventata, negli ultimi giorni ci sono stati dei veri e propri ride nelle abitazioni, insomma i ladri in abitazione che fanno delle cose ormai inaudite e a più riprese. Tra l'altro in diversi paesi si assiste quasi drammaticamente a una sequenza che sembra veramente da film. In Valle Caudina stanno girando da diverso tempo tanti ladri ma non si riesce a beccarli. La gente di Cervinara, Lotondi, San Martino, Valle Caudina, Rocca Bascerana sono preoccupati, ma sono preoccupati anche i cittadini del Baianese di Avella, Sperone, Quadrelle, Baiano, Sirignano, Mugnano del Cardinale. Ebbene in queste realtà c'è quasi contemporaneamente questa azione dei ladri che assalgono le abitazioni. In alcuni paesi addirittura si sono organizzate delle vere e proprie ronde tra cittadini e quindi cittadini volenterosi che anche di notte aiutano le forze dell'ordine a prevenire questo fenomeno. Ecco è da anni che non si assisteva a un qualcosa del genere, veramente un fenomeno nuovo e preoccupante. Bisogna realmente dare una svolta. I sindaci come autorità di pubblica sicurezza insieme alle forze dell'ordine, insieme ai volontari, insieme ai cittadini stanno cercando di porre argine a questo fenomeno. Eppure la provincia di Avellino sembrava un po' immune da certe situazioni. Però questo fenomeno veramente interessa ormai ogni territorio. Pertanto ci vuole veramente una riorganizzazione.